Allora, ciao Alessia, bentornata. Allora, grazie per le belle emozioni che ci hai regalato anche con la Nazionale. Grazie a voi per il supporto, per averci viste. E niente, ora ci fermiamo qua. Anno olimpico, ma anche anno della consacrazione tua, dopo due bei campionati che tu hai fatto qua, ormai sei protagonista qui a Busto. Dove può arrivare Alessia Ordo? Beh, l'anno olimpico è il prossimo anno. Quest'anno pensiamo agli europei step dopo step e non guardiamo troppo in avanti. Comunque non lo so dove posso arrivare, so solo che ci metterò l'impegno ogni giorno come sempre fatto per crescere sempre di più. Grazie Alessia e in bocca al lupo per il tuo prossimo immediato raduno, quello degli europei, e speriamo di vederti sempre così sorridente. Grazie, ciao.